gli audio racconti serie il giallo inglese la cavalletta di edgar wallace letto da dami il numero 707 di tresilien road è la casa dei misteri è una piccola casa sovrastata da quelle vicine le finestre sono sudice le tende quasi sempre chiuse una macchia di vegetazione lussureggiante ricopriva il davanti della casa e nella parte posteriore al di là di un alto muro c'era un giardino disordinato ricoperto di vecchie scatole e di altri rifiuti in mezzo ai quali durante l'estate cespugli di malvone lottavano per farsi strada con grande coraggio e perseveranza nessuno sapeva nulla del professor allicott tranne il fatto che la casa gli apparteneva e che lui viveva solo un vecchio curvo con lunghi capelli grigi che scendevano fino al bavero del capotto sbiadito non aveva servitori andava al mercato ogni mattina con una sporta di paglia in cui infilava i suoi modesti acquisti e a volte usciva alla sera con una piccola borsa nera in mano per fare poi ritorno a casa solo alle ore piccole un vecchio strano con il viso giallo solcato dalle rughe che aveva la strana abitudine di parlare da solo anche se nessuno aveva mai udito alcunché di quei soli loqui a volte degli sconosciuti venivano a trovarlo uomini rudi dall'aspetto malvagio che restavano con lui per ore nessuno sapeva in quale arte o scienza avesse il suo dottorato non aveva debiti e pagava tutti viveva senza recare offesa ad alcuno un tale epitafio sostenuto dalla verità avrebbe potuto indicare l'uomo perfetto fu nell'estate del 1924 che ebbe inizio quella serie di sconcertanti misteri per citare la romanzesca descrizione di quegli eventi data dal kentish time in greenwich observer che doveva eccitare ed irritare scottrandiard e fornire al contempo materiale per colonne e colonne di illazioni stampate nella parte sud di londra infatti fece la sua comparsa uno scassinatore il cui modus operandi era molto semplice era in grado di arrampicarsi come una scimmia e di superare pericolosi passaggi aerei come uno stambecco i giornali con la loro fertile e brillante immaginazione lo soprannominarono la cavalletta perché agiva da wimbledon a blackhead facendo un passant una visita ai palazzi più ricchi di brockley e saltava da un distretto all'altro nel modo più incredibile e sconcertante non passava settimana senza che venisse registrato qualche suo nuovo exploit e l'aria vibrasse per i lamenti di un'ennesima vittima diagrammi che illustravano i metodi con cui si guadagnava l'ingresso alle camere da letto di qualche riccone erano costantemente riportati sui giornali linee punteggiate indicavano il suo percorso da un balcone ad una grondaia puntini neri indicavano il luogo in cui avrebbe dovuto trovarsi un poliziotto che invece non c'era una croce contrassegnava la finestra che lo scassinatore aveva forzato il kentish time and greenwich observer scrisse è semplicemente scandaloso che questi crimini non vengano risolti se la polizia non è in grado di scoprire il malfattore che porta a termine questi misfatti allora si faccia da parte e lasci lavorare gli eminenti investigatori privati che sono più che disposti a dare una mano e che hanno più cervello nei loro mignoli che tutti i sergenti della polizia messi assieme questo paragrafo apparve sotto il titolo di chiacchiere locali ed era scritto dalla signorina Elsie Byrne il cui pseudonimo era l'osservatore la nipote preferita del proprietario del giornale più avanti nell'articolo compariva questa annotazione giovedì scorso a St. Michael Hall ha avuto luogo una serata molto interessante e distruttiva nel corso della quale il signor Ferdinand Fairless il famoso investigatore di Tirewit Road ha tenuto una conferenza sul tema impronte digitali loro utilità e inadeguatezza nella scoperta dei criminali tra i presenti figurava anche il sindaco di Deptford il signor Fairless ha commentato molto aspramente il fallimento della polizia nei recenti casi di furto e ciò è stato sottolineato da caldi applausi del pubblico nonostante l'ambigua frase di chiusura la conferenza fu un grande successo in verità il signor Fairless non mancava mai di suscitare l'entusiasmo locale perché era per ammissione unanime l'unico uomo di Broccoli per il quale i segreti della malavita erano un libro aperto è un discreto svantaggio nascere con il nome Fairless e quando a quel titolo generico di senza paura i padrini o le madrine aggiungono il nome proprio Ferdinand questo svantaggio può diventare tale da far barcollare anche gli uomini più calmi e padroni di sé Ferdy Fairless viveva al numero 405 di Tirewit Road a Broccoli era un giovane gentiluomo con mezzi cospicui perché era un orfano e il padre gli aveva lasciato tutti i risparmi accumulati in molti anni avrebbe potuto sposarsi come zia Agatha una vecchia signora che era un tempo la sua governante e il suo chaperon timidamente gli suggeriva abbastanza spesso o come Elsie Byrne gli spiegava con più chiarezza a intervalli molto più frequenti Elsie oltre ai suoi doveri di giornalista era la sua assistente principale piuttosto che la sua fidanzata era snella e graziosa con grandi occhi azzurri e una folta chioma di capelli castani ma seppure Ferdy notava queste sue gradevoli attrattive non lo aveva mai espresso nel modo consueto era un uomo magro e non molto alto aveva capelli neri che gli si arrotolavano in riccioli sul colletto il viso pallido dell'intellettuale e gli occhi guizzanti del folle era misterioso e sfacciato ma in genere i suoi domestici erano d'accordo sul fatto che fosse intelligente un giorno Elsie Byrne venne a prendere il tè e zia Agatha nella sua qualità di chaperon sedette in disparte il matrimonio naturalmente disse Ferdy può attirare la maggior parte delle persone ma con la mia missione e la mia carriera scrollò le spalle magre chiuse gli occhi e congiunse le punte delle dita appoggiandosi allo schienale della poltrona profonda e confortevole la mano di Elsie corse di soppiatto verso il bricco del latte per un secondo nei suoi occhi comparve uno sguardo assassino ma con un grande sforzo tenne sotto controllo le sue tendenze omicide ma certo Ferdy caro pronunciò l'ultima parola con marcata enfasi capisco tutto della tua missione e della tua carriera ma mio zio sta diventando molto insistente e mi ha chiesto come mai non ho un anello di fidanzamento non sono mica il tipo da gettarmi sul primo che passa Ferdy fece un gesto stanco sempre con gli occhi chiusi ma se davvero conto qualcosa per te proseguì lei per poi interrompersi piena di aspettativa cara Elsie replicò Ferdy con voce stanca la fama sta bussando alla mia porta dovrei forse rinunciarvi per i frivoli festeggiamenti del matrimonio la casa dei meccenzi l'altra notte è stata svaleggiata dalla cavalletta un uomo alto con i baffi biondi e gli occhiali scuri è stato visto nelle vicinanze del luogo da una guardia di ronda verso le 10 e mezza dopodiché è stato visto in sella ad una bicicletta in lampid road alle 11 e un quarto questi sono fatti che ho accertato al di là di ogni ragionevole dubbio erano scritti sui giornali del mattino disse Elsie senza alcuna pietà ma io li avevo già accertati ribatte Ferdy fearless in tono di calmo rimprovero la faccenda per il momento assorbe tutta la mia attenzione e per quanto quelle teste dure della polizia abbiano rifiutato la mia assistenza penso di essere in grado di riservare alcune sorprese a quegli uomini grossolani e privi di immaginazione zia agata volete passarmi per cortesia il mio libro dei baffi zia agata si rizzò a sedere di scatto te lo prendo io disse Elsie e si diresse verso uno scaffale d'angolo dove l'uno accanto all'altro erano allineati i parecchi quaderni grazie mia cara disse Ferdy apri il libro che lei gli gettò e girò una pagina dopo l'altra su ognuna c'erano fotografie di criminali ritagliati da un giornale della domenica una splendida collezione che aveva occupato quattro anni della sua vita ovviamente l'uomo è questo indicò una creatura dall'aria forfantesca con lunghi baffi incolti albert henry jones l'ho già notificato alla polizia e naturalmente saranno loro a prendersi tutto il merito che cosa hanno detto chiese Elsie affascinata il signor fearless sospirò hanno detto che albert henry jones è morto da due anni ma naturalmente si tratta solo di una copertura se non è albert henry jones voltò rapidamente le pagine ed indicò un'altra mostruosità tratta da un giornale è charles james smith ho già suggerito anche questa teoria alla polizia e loro che cosa hanno detto chiese Elsie senza fiato hanno detto che charles james smith è in prigione a dartmoor da tre anni e che non è probabile che ne esca prima di altri nove la solita copertura eppure in un certo senso hanno ragione la cavalletta non è nessuno dei due in questo momento stesso potrei mettere le mani sul maestro del crimine Elsie non disse nulla in questo preciso momento ripete lui sì sì ti avevo sentito fece Elsie ora per quel che riguarda il matrimonio di nuovo scivolò in quello stato di semincoscienza e di nuovo le punte delle sue dita si mossero le une contro le altre tempo al tempo devo ancora risolvere il mio caso più importante naturalmente ho avuto dei piccoli successi sicuramente ricorderai l'affare del cesto del mercato Elsie ricordava lo strano caso dell'uomo con gli occhiali l'hai in mente Elsie lo aveva in mente rammenterai poi il caso dei quattro semi d'arancio Elsie rammentò con impazienza sono semplici bazzecole quello che devo fare ora è risolvere il caso per antonomasia quando lo avrò risolto fece un tenue sorriso le tue più care speranze si realizzeranno facendo un notevole sforzo Elsie non lo colpì in testa con il candelabro d'argento massiccio che aveva a portata di mano Ferdy gli piaceva troppo per ucciderlo gli era troppo attaccata per buttarlo sotto un treno ma non c'era dubbio che fosse un giovanotto alquanto stressante tuttavia Ferdy era anche il più grande criminologo di Broccoli aveva intrapreso il lavoro delle investigazioni criminali laddove un altro grande uomo le aveva interrotte aveva un laboratorio nella serra dietro casa che era una vera e propria selva di provente microscopi piatti di porcellana e bilance di precisione chi vedeva il laboratorio per la prima volta pensava che Ferdy fosse un fotografo dilettante ma non era quella la verità sorseggiò il suo tè posò la tazza e si alzò aggiustando le code della lunga giacca a doppio petto poiché indossava una finanziera e si diresse alla finestra per guardare fuori questa notte catturerò la cavalletta disse all'improvviso e poi aggiunse allicott chi persino elsi era a sorpresa il professore allicott la più sinistra figura di Broccoli continuò Ferdy con voce eccitata quel povero vecchio Ferdy sorrise è da un po' che lo tengo sotto osservazione ho tenuto d'occhio i suoi andirivieni oggi è giovedì e tutti giovedì sera lui esce la casa resta vuota questa notte svelerò il mistero del 707 di Tressilian Road elsi rimase a bocca aperta vuoi dire chiese con voce cupa che intendi introdurti nella casa Ferdy annui e dai suoi modi compiaciuti si sarebbe potuto credere che l'effrazione fosse un avvenimento comune nella sua vita di tutti i giorni mi servirà un'assistenza posso contare su di te lei lo guardò incredula su di me per aiutarti a fare lo scassinatore nell'interesse della giustizia replicò lui lei fece un respiro rapido e profondo quando si comincia intorno alle undici rispose Ferdy prendendo una sigaretta terrò d'occhio la casa e appena il vecchio sarà lontano sentirai un fischio basso e sommesso sentendolo ti unirai subito a me nel giardino davanti avrò una borsa con gli strumenti e in pochi secondi saremo all'interno io dove sarò chiese elsi entrerai anche tu ho una pistola non hai nulla da temere voglio dire dove sarò quando sentirò il fischio basso e sommesso chiese lei in tono pratico perché non mi fai stare con te invece di fischiare lui scosse le spalle con indifferenza come vuoi rispose ma stai certa che ho le mie buone ragioni per essere cauto e comunque il fischio mi sembrava un'idea astuta alle undici di quella piovosa sera due persone bagnate ed infreddolite erano nel giardino di fronte al numero 707 intente ad osservare la figura del professor allico che si allontanava pioveva dolcemente come aveva fatto per tutto il pomeriggio e i denti di ferdi battevano anche se era possibile che la cosa fosse dovuta al freddo stai calma sussurrò in tono sepolcrale ora mettiamoci al lavoro insieme attraversarono in punta di piedi la strada deserta varcarono il cancello il cui scricchiolio fece scorrere un brivido di eccitazione nervosa lungo la spina dorsale di ferdi e quindi giunsero alla grande finestra sul davanti le tende erano tirate vide ferdi facendo cautamente luce con la propria lampada dalla tasca tolse quello che una volta era stato un astuccio con il necessario per la barba e di lì trasse uno strumento sottile che sembrava un diamante da vetraio cosa che in effetti era dalla tasca prese anche un pezzo di carta moschicida lo piegò attentamente in due anche se non era stato abbastanza attento da non farlo bagnare in tasca cosa di cui si accorse molto seccato e mettendolo con la parte appiccicosa sulla finestra mosse la taglierina sarebbe stato il lavoro di un secondo fare un buco nel vetro ma sfortunatamente ferdi non era un vetraio quindi solo dopo che elsi lo ebbe aiutato l'apertura venne praticata il pezzo di vetro tolto e la mano di ferdi si poteva sporgere all'interno a cercare la maniglia della finestra fai attenzione a non tagliarti lo ammonì elsi ma ferdi sogghignò nel buio il telaio della finestra si sollevò rumorosamente avrei dovuto oliarlo mormorò lui prima di arrampicarsi sul davanzale elsi lo seguì senza aiuto come gli fece notare acidamente ma ferdi era troppo teso per accorgersi del suo rimprovero ai raggi della sua lampada si rivelò una piccola e disordinata sala da pranzo una tavola coperta di fogli e un'incredibile libreria le carte possono aspettare disse oscuramente ferdi aprì la porta e si incamminò lungo un corridoio privo di tappeti nessuna delle stanze della casa tranne una era chiusa a chiave e non fornirono nulla di incriminante sta indietro ingiunse ferdi prima di lanciarsi a tutta velocità contro la porta chiusa a chiave la porta però lo ributtò indietro ti sei fatto male sussurro lei non fare domande fu la secca risposta ho dimenticato di portare gli altri miei strumenti che sciocco sono stato lei intanto aveva raccolto la lampada che lui aveva lasciato cadere e ora stava esaminando la porta questa porta si apre tirando non spingendo disse aprendo entrarono in una piccola stanza che era notevole per il fatto che un bancone girava intorno ai tre lati e su ognuno di essi c'erano un certo numero di casse di vetro apparentemente vuote c'è qualcosa di sinistro qui mormorò ferdi senza fiato e girando la maniglia di una delle casse l'aprì dirigendo il raggio della lampada all'interno per un secondo vi fu un minuscolo bagliore di luce a metà tra il fondo e la parte superiore della scatola ma poi questo scomparve che cos'era chiese la ragazza non lo so il brillio riflesso di un diamante forse suggerì ferdi e sollevò l'ovatta che ricopriva il fondo lì sotto però non c'erano diamanti e neppure quando esaminò le altre casse vi fu lo scintillio di gioielli sotto l'ovatta aprirono sette otto nove casse ma non trovarono nulla sono sconcertato lo ammetto ferdi aveva un tono amaro il caso diventa sempre più misterioso di secondo in secondo forse non c'è niente da trovare suggerì la ragazza piena di buonsenso e non ci saranno un sacco di chiacchiere per quella finestra con il vetro rotto fece ferdi chiuse le casse uscì e chiuse con cura la porta dietro di sé uscendo dalla finestra attraverso la quale era entrato e proprio in quel momento mentre saltava in giardino ebbe una scossa un uomo era a metà del sentiero e alla vista di ferdi nella luce fioca del lampione trasalì salve chi siete? chiese ferdi fearless non perse la propria presenza di spirito ho creduto di sentire un ladro e sono venuto a vedere rispose siamo venuti a vedere io e la mia amica aggiunse perché in quel momento Elsie comparve a suo fianco che diamine ribatté lo sconosciuto anch'io ho creduto di sentire un ladro è incredibile come siamo tutti sul chi vive a causa di questa infernale cavalletta era un giovanotto molto simpatico e insieme percorsero Tyrewith Road quando si salutarono alla porta della casa di ferdi erano quasi amici fortunatamente disse ferdi quando furono dentro al sicuro è uno straniero in questi paraggi e non testimonierà contro di noi anche se penso di avere una risposta per la polizia se dovessero venire a cacciare i loro nasi privi di immaginazione in questa faccenda prese dalla tasca un fascio di lettere e lo mise sul tavolo la zia Agatha nel frattempo dormiva pacifica in un angolo della stanza ignara della loro presenza ho portato via questi documenti potranno gettare un po' di luce sui movimenti di quel vecchio e nel parlare ferdi si grattò prima un braccio e poi una gamba stranamente proprio in quel momento zia Agatha si grattò un braccio e poi una caviglia ed era più che una coincidenza il fatto che nello stesso istante anche Elsie si grattasse il gomito e la testa Ferdi aprì una delle lettere era scritta con una calligrafia a rozza era intestata a Circo Donchester e cominciava così caro professore sono molto spiacente di comunicarvi che le sue pulci ammaestrate non vanno più di moda come una volta pulci ammaestrate disse Ferdi con voce profonda da basso la ragazza adesso stava leggendo al di sopra della sua spalla ammetto che le ammaestriate meglio di chiunque altro nel paese ma non attirano più come una volta e il pubblico non è più interessato a loro a causa del cinema Elsie fissò il proprio fidanzato potremmo aver portato via molto di più di quanto pensassimo molto molto di più il mattino seguente venne pubblicata la prima vera autentica fotografia della cavalletta Elsie chiamò al telefono il suo detective è il tuo amico quello che abbiamo incontrato dopo aver scassinato quell'emporio di pulci disse brusca spero almeno abbia portato via anche lui la sua parte di bottino Ferdi ascoltandola si grattò la testa d'altra parte non aveva fatto altro tutta la notte ma per una ragione completamente diversa gli audio racconti serie il giallo inglese la cavalletta di Edgar Wallace letto da Dami grazie a tutti Grazie a tutti.